La tragedia avvenuta nel cantiere di insediamento del centro distribuzione di Amazon che sembrerebbe dovuta a problemi strutturali porta tragicamente alla luce le scarse condizioni di sicurezza nelle quali sono costretti ad operare i lavoratori all'interno di progetti che devono spesso fare i conti con tempi di realizzazione dell'opera incalzanti. Ma sentiamo da Andrea Guala. Prosegue la vostra campagna Zero morti sul lavoro ma purtroppo ieri ad Alessandria si è verificata una tragedia nel cantiere di Amazon. Sì, purtroppo ci ritroviamo nuovamente a piangere un morto sul lavoro una disgrazia che poteva avere sicuramente riscontri peggiori per quello che è accaduto perché comunque si sospetta che ci sia un problema strutturale che ha fatto sì che l'impalcato dove lavoravano questi operai cedesse quindi proprio quasi alla fine del getto e quindi potete immaginare il laterizio che gli crolla addosso con tutti quei metri cubi di cemento. Nella maggior parte degli infortuni certo noi riscontriamo che c'è un problema di tipo comportamentale i lavoratori secondo me non hanno mai colpa in questo caso credo che nel momento in cui ti viene a mancare la terra sotto i piedi non puoi fare altro che insomma cercare le conseguenze altrove ecco quindi probabilmente adesso io non mi sento di colpevolizzare nessuno però la magistratura sta facendo sicuramente le proprie indagini e poi ci darà conferma di quello che potrebbe essere l'ipotesi. Voi comunque avete proclamato uno sciopero di 4 ore che verrà effettuato lunedì 3 maggio. Sì, lunedì 3 maggio noi abbiamo proclamato uno sciopero di 4 ore faremo un presidio davanti al cantiere noi cerchiamo sempre di mantenere l'attenzione alta sulla formazione sulla sicurezza sono punti cardini sono punti importanti quelli indispensabili perché non bisogna mai abbassare la guardia su queste cose. Si è concluso invece lo sciopero d'oltranza indetto al cantiere Radimoro per il terzo valico? Sì, si è concluso lo sciopero i lavoratori hanno voluto manifestare perché comunque ci hanno sottoposto alcuni problemi relativi alla sicurezza a seguito di questo l'azienda si è impegnata a risolverli in tempi brevi perché comunque potevano creare sicuramente dei forti disagi ai lavoratori c'era in ballo anche una questione economica dovuta praticamente al disagio portato dall'utilizzo dei dpi in questo momento loro stanno lavorando in presenza di amianto anche se non con numeri diciamo significativi però quello che abbiamo ottenuto è una riduzione dell'orario di lavoro in quelle condizioni è una maggiorazione dovuta all'utilizzo di questi dispositivi di protezione individuale compie 853 anni la città di Alessandria due le iniziative che caratterizzeranno il compleanno che ricorrerà lunedì la manifestazione potrà essere seguita in streaming sul sito istituzionale youtube del comune ma sentiamo questa intervista di Chetti Porcello il 3 maggio sarà il compleanno della città di Alessandria l'anno scorso non si è potuto fare niente perché in questo periodo si era in piena pandemia oggi il covid sarà importante in questo anniversario della città con il presidente del consiglio comunale Emanuele Locci a che punto sono i preparativi e quale sarà il programma di questo speciale compleanno Grazie quest'anno si celebra l'ottocento cinquantatresimo anniversario della fondazione e riprendiamo con due momenti un primo momento la mattina alle ore 10 e Santa Maria di Castello si celebrerà una messa con il vescovo di Alessandria e il canto del Tedeo un canto di ringraziamento a Dio affinché protegga la nostra comunità e poi il pomeriggio alle ore 15 nella sala del broletto la sala del consiglio comunale in epoca medievale di questa città appunto torneremo a celebrare questo anniversario e tutto sarà incentrato su ringraziamento alla città e a chi si è impegnato quest'anno daremo delle benemerenze generiche alle categorie e non individuali proprio per esprimere questo senso di ringraziamento alle forze dell'ordine alle strutture sanitarie ospedaliere della città al personale al mondo del volontariato ma questo non vuole essere esaustivo di tutti coloro che si sono impegnati in prima linea ma è un punto di partenza per un anno in cui vogliamo ringraziare e riconoscere il merito di chi si è impegnato in questa pandemia sarà anche un momento di riflessione sullo stato attuale della città e sulle prospettive future per questo motivo sono stati anche invitati i presidenti e i sindaci emeriti della città a partecipare alla discussione di questo consiglio comunale la città di Alessandria ricorda oggi il 77esimo anniversario del bombardamento del quartiere Cristo in cui morirono 239 persone purtroppo anche quest'anno non è stato possibile una cerimonia in presenza da parte delle autorità della cittadinanza e dei parenti delle vittime del bombardamento davanti alla targa commemorativa questo però si legge in una nota di Palazzo Rosso non mette affatto in discussione l'impegno dell'amministrazione comunale affinché a questo anniversario venga in ogni caso dato il giusto il dirievo quel bombardamento si legge ancora di domenica 30 aprile 1944 peraltro non fu l'unico in Alessandria ad essere portatore di morte e di istruzione sebbene fu quello che per numero di vittime fu il bombardamento più sanguinoso avvenuto in città da questa settimana i cittadini che risiedono nelle zone periferiche più isolate del territorio di Asla Alessandria che incontrano difficoltà nella procedura di prenotazione online per i vaccini possono rivolgersi alle locali stazioni dei carabinieri le quali su indicazione del comando provinciale di Alessandria hanno avviato un'attività di assistenza presso le caserme anche a domicilio per i casi ritenuti più gravi i cittadini anziani residenti in Piemonte per i quali attiva la prenotazione della vaccinazione di covid attraverso il portale ilpiemonte di vaccino di vaccino che incontrano difficoltà possono dunque contattare direttamente i carabinieri c'è un numero di telefono che è a vostra disposizione che è 0131 51 61 e partirà lunedì il regime definitivo del telecontrollo degli accessi alla ZDL bocca d'asse a Genova da questa data le immagini acquisite dalle telecamere relative agli accessi dei veicoli non autorizzati saranno utilizzate per le procedure di sanzionamento la disciplina che regolamenta gli accessi alla ZDL bocca d'asse è stata equiparata a quelle attualmente in vigore per le ZDL centro storico Molo e Porticciolo di Nervi il comune ricorda per chi non avesse ancora provveduto all'adeguamento dei permessi di accesso può accedere allo sportello polifunzionale di Genova parcheggi in via le Brigate Partigiane 1 con orario 8.30 16.30 e adesso invece mercoledì prossimo l'assessorato regionale al commercio del Piemonte incontrerà in videoconferenza i rappresentanti dello spettacolo viaggiante per concordare con gli enti locali la stesura di un protocollo regionale per riaprire in sicurezza i Luna Park in molti comuni l'attività è stata vietata in base al principio di massima precauzione per scongiurare il rischio di allungare la catena di contagio la regione spiega l'assessore Vittorio Poggio da tempo impegnata in un dialogo con gli enti locali attraverso Anci e Uncem ma adesso è arrivato il momento di tracciare una linea sul passato e pensare a un futuro di riapertura per la stesura di un protocollo di sicurezza regionale per disciplinare lo svolgimento di queste attività Alvia il Benedicta Festival Arte e Manutenzione della Memoria si chiama così la nuova iniziativa promossa dall'Associazione Memoria della Benedicta in collaborazione con l'Associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria la rassegna che si terrà dal 7 maggio al 4 luglio è stata presentata in videoconferenza la seguita per noi Federica Riccardi Si chiama Benedicta Festival Alte e Manutenzione della Memoria la nuova iniziativa promossa dall'Associazione Memoria della Benedicta il Festival nasce dalla volontà di unire letteratura musica riflessione storiografica e conservazione della memoria al fine di ricordare un evento tragico e al contempo fortemente identitario per il territorio alessandrino che per anni è stato raccontato dai sopravvissuti ultimi testimoni diretti dell'Eccidio che anno dopo anno stanno scomparendo abbiamo deciso di prendere spunto dalla vicenda della Benedicta per aprire uno spazio di iniziativa culturale che coinvolge narrativa e musica tenuti insieme dal valore e dall'alto significato morale civile della Benedicta ma con un approccio che possa avvicinare anche pubblici diversi spiega il presidente dell'Associazione Memoria della Benedicta Dariene Leborioli nell'ideare questo festival abbiamo deciso di riflettere su quali possono essere i modi per trasmettere e mantenere viva questa memoria a chi non l'ha vissuta stolinea la scrittrice Raffaella Romagnolo direttrice artistica del festival agli incontri parteciperanno diversi autori tra cui Violardone Simonetta Agnello e Bruno Morchio che con i loro libri sono riusciti nell'intento di avvicinare i lettori alla storia con narrazioni avvincenti l'intento del festival è di invitare persone che ci raccontino come fanno storia e come utilizzano gli strumenti dell'arte e della narrativa per trasmettere la memoria e nello stesso tempo di restituire a loro questa nostra storia questo può essere un'opportunità per portare la conoscenza e la memoria della benedicta fuori dai confini locali continua Raffaella Romagnolo saranno sette gli appuntamenti che comporranno il festival dal 7 maggio al 4 luglio i primi tre saranno trasmessi in streaming sul sito sulle pagine facebook e sul canale youtube dell'associazione cultura e sviluppo dell'Alessandria e sulle pagine facebook dedicata all'evento compatibilmente con le limitazioni imposte dalla situazione pandemica il festival proporrà poi quattro appuntamenti in presenza e si concluderà con il grande concerto di Yoyo Mundi e Gang oltre a rendere omaggio la figura di Don Gianpiero Armano collaborando a questo festival vogliamo ribadire l'importanza di studiare la storia e di fare memoria perché senza non c'è futuro sapere da dove veniamo è fondamentale per comprendere dove stiamo andando e quali obiettivi vogliamo raggiungere spiega Giorgio Barberis referente delle giovedì culturali dell'associazione cultura e sviluppo il festival è organizzato con il contributo della fondazione Cassa di Risparmio di Torino e con la collaborazione dell'associazione cultura e sviluppo di Alessandria dell'Israel dell'ISREC dell'ampi provinciale di Alessandria Genova dei comuni Tajolop Monferrato Castelletto d'Orbe e Rocca Grimalda che patrocinano l'evento insieme alla provincia di Alessandria e con il sostegno del consiglio regionale del Piemonte con il ritorno alla zona gialla il turismo colpito duramente dalla pandemia si riscopre alla ricerca di spazi che garantiscano sicurezza e relax la ripresa è lenta ma il settore non si arrende i soci di Agritourist sono convinti che si possa ancora una volta ripartire proprio dall'agricoltura ce ne parla Andrea Guala Il turismo comparto che ha subito i danni maggiori dai lockdown derivanti dalla pandemia vuole ripartire e nel caso di Agritourist associazione che raccoglie oltre 24.000 agriturismi in Italia vuole farlo seguendolo a propria vocazione cioè naturalmente Il progetto si chiama Riparti naturalmente Riparti con noi e come dice il titolo significa che le nostre aziende mettono a disposizione come vedete questi spazi aperti questi spazi in cui c'è un distanziamento naturale in cui si può fare un'attività in sicurezza quindi noi diamo la possibilità in un ambiente che è decisamente aperto in un ambiente libero in un ambiente in mezzo alla natura questo è il nostro punto di forza e vogliamo ribadirlo in questo momento Con un turismo sempre più di prossimità è nato il fenomeno Holiday Work che offre ai lavoratori in smart working la possibilità di lavorare in strutture recettive come la fiscala di Spinetta Marengo alleviando nel lavoratore l'isolamento di un appartamento in città Riparti naturalmente Riparti con noi AgriTourist sicuramente darà modo a tutti quanti di assaporare i gusti della nostra terra mantenendo una leggera distanza che possa consentire a tutti di godersi veramente relax nelle nostre aziende Sarà intrattenimento per bambini per adulti sarà didattica questa didattica a distanza tornerà in presenza la faremo nella piena disponibilità di spazi verdi e quindi adeguatamente areati consentendo a tutti i ragazzi di ritrovare e di riscoprire nuovamente i nostri territori la fondazione cassa di risparmio di Alessandria ha comunicato che questa mattina sono partite le visite nuovamente alla sala d'arte di Palatio Unvetus di Alessandria sono state riaperte praticamente al pubblico per via della zona gialla e le visite guidate saranno gratuite con prenotazione consigliabile ma non obbligatoria ma ci racconta tutto Fabrizio Mattano Palatio Unvetus di Alessandria con le sue sale d'arte torna da oggi usufruire al pubblico che potrà ritrovare un pezzo di storia dalle città grazie a visite guidate che si effettueranno a cadenza oraria si riprendono le visite le visite alla quadreria alla sala del broletto all'interno del palazzo con grande gioia che noi vogliamo contribuire alla ripresa dell'attività artistiche e culturali la fondazione è sempre stata vicina a queste attività quindi vicina alla musica vicina alla pittura vicina all'archeologia e siamo ben felici di riprendere la nostra attività speriamo che vada avanti a lungo l'apertura dalle 9 alle 13 da domani anche dalle 15 alle 19 le prenotazioni per l'accesso gratuito non sono obbligatorie ma consigliate per poter contingentare gli ingressi ai sensi della normativa Covid-19 la fondazione ha sempre continuato a lavorare in questi periodi di chiusura per migliorare l'esperienza di visita a tutti gli spazi culturali e assicurare un'apertura in sicurezza e quindi invita il pubblico a visitare Palazzo Unvetus simbolo della città di Alessandria e la mostra Marengo e il suo tempo che sarà fruibile nel cortile del Broletto con i suoi manifesti carte geografiche e stampe che si concentrano sulla figura di Napoleone Bonaparte della battaglia di Marengo che permetteranno di seguire una narrazione visiva di questo avvenimento storico con la parabola del mito napoleonico fino al suo termine la fondazione si augura che questo sia solo il primo passo verso un ritorno alla normalità che si spera venga il più presto possibile e in tutti i settori della cultura che sono stati così fortemente penalizzati dalla situazione contingente Siamo arrivati al fine settimana praticamente sono molti gli appuntamenti sportivi ci sarà anche l'Alessandria Calcio che terrà il suo ultimo incontro di campionato regolare in attesa dei play-off che seguiranno tra qualche settimana e questo ultimo risultato non è importante per definire quindi qualcosa di più di quello che è già definito cioè che parteciperà ai play-off ma di tutti gli avvenimenti sportivi ci parlerà Fabrizio Mattana in questa pagina sportiva che segui tra poco grazie per l'attenzione arrivederci alle prossime edizioni